Allora ragazzi siamo io e Rao, stanotte non abbiamo dormito che abbiamo praticamente nerdato tutta la sera tra Tekken Tag 2, un gioco sull'ebulatore del Game Boy che stiamo facendo la guerra, magari durerà tutta la settimana e un po' ho provato Tekken 7 con lo stick. Adesso andiamo a fare colazione e poi ci prepariamo al grande giorno, il grande torneo di Tekken 7 a Bologna, parteciperà o io farò il tifo, filmerò quello che potrò. Allora ragazzi siamo a Bologna, questo non dovevamo prendere il suo treno, il primo l'abbiamo perso perché abbiamo fatto colazione con calma, con calma al bar, qui a Bologna aspettiamo di vedere Batman da un momento all'altro, si luci al neo, fumo dai tombini e niente vediamo se troviamo sta fiera. Raga il torneo è andato benissimo, sono sicuro che qualcuno ti è divertito perché noi no, cioè il torneo c'è scritto a Bologna ma in realtà è a Reggio Emilia, quindi... Il manifesto domenica 25, streamfighter, torneo gratuito fiere di Bologna, a di milioni e game, oggi che giorno è? Oggi 25, siamo a Bologna ma il torneo è a Reggio Emilia, quindi enjoy!